E' Natale E per questo Natale, Teleticino vi ha preparato una grande sorpresa Musica, personaggi, satira, magia e le note dolci e graffianti di Flavio Maspoli Il tutto in diretta dagli studi di Melide sotto una pioggia di luci e di colori Per il quarto anno vi invitiamo a passare l'antivigilia con noi E direttamente dal Maurizio Costanzo Show la travolgente comicità di Pucci Una serata da non perdere Vi aspettiamo dunque puntuali giovedì sera alle 19.15 Vi porteremo con noi nel cuore del Natale Giocando sulle corde dell'allegria e dell'emozione Su Teleticino, vi piacerà